Briolo Cargallo, Amianto nelle industrie, presto l'udienza in Cassazione per il pre-pensionamento di Calogero Vicario e altri 9 operai. Conto alla rovescia per l'udienza in Cassazione della vicenda relativa all'ex metalmeccanico siciliano Calogero Vicario, che, ironia della sorta, cadrà proprio il 28 aprile, data della giornata mondiale delle vittime dell'Amianto. La storia di Calogero è quella di tanti, troppi operai che pensavano di aver trovato un lavoro dignitoso per mantenere le loro famiglie e sono trovati a combattere contro un mostro. Adesso ha 61 anni e i bronchi pieni di amianto che respirava nelle industrie meccaniche siciliane dove ha lavorato per tanto tempo. 4-5 volte l'anno combatte con brutte bronchite e ha un deficit respiratorio del 38%. Qualsiasi piccolo sforzo lo affatica moltissimo e deve sempre portare con sé un bronco dilattatore. Negli ultimi mesi si è sottoposto a un'attacca che ha purtroppo portato alla luce diversi noduli ed è quindi sottostretta sorviglianza sanitaria. Ricordo sempre che almeno 20 suoi colleghi sono venuti a mancare in questi anni a causa dell'Amianto, così come in tutte le fabbriche in cui veniva usato il minerale Killer, Vicario che per protesta da più di mille giorni non taglia i capelli e la barba, che ha raggiunto i 25 cm di lunghezza, aveva ottenuto insieme ad altri nuovi colleghi i benefici amianto e quindi il prepensionamento, diritti negati in appello. Ora la loro battaglia è in mano ai giudici Ermellini che decideranno sulle loro vite quel giorno, voglio esserci fisicamente, mi andrò a sedere davanti alla Cassazione, voglio portare ancora una volta la mia testimonianza e lo farò insieme a mia figlia. Non ci aspettiamo nulla di particolare, anche perché moralmente mi sento di avere già vinto, dichiara l'ex operario che sottolinea, siamo riusciti anche grazie all'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Ameanto, e all'onorevole Pippo Gianni, ex sindaco di Priolo, asco per chiare il vaso di Pandora. Nessuno prima del 2009 in Sicilia parlava di amianto, ora ci affidiamo alla Suprema Corte per capire se è giusto che per un cavillo dobbiamo essere trattati come delinquenti, perché di questo che si tratta l'Inps ci ha anche chiesto indietro il denaro che ci ha concesso dopo la sentenza di primo grado che avevamo vinto. Negli anni abbiamo ammortizzato la spesa, ma abbiamo pagato sulla nostra pelle questa ingiustizia e con noi e le nostre famiglie. Mi è costata anche la protesta che si è concretizzata con il mancato taglio di barba e capelli, è stato difficile anche a livello psicologico, eppure ho sempre pensato di essere nel giusto e che non dovevo assolutamente mollare. Le patologie asbesto correlate sono gravissime, possono manifestarsi anche 30 o 40 anni dopo l'esposizione, per questo l'Ona continua a lottare per i diritti delle vittime e delle loro famiglie e per aggiornare la mappatura anche attraverso l'app. Grazie a tutti.